Pre e finale, sono collegati con... Con quei cristalli. Solo con quelli? Sì, sì, se no, sono quelli. Ah, il bianciato è troppo riscrivito. Comunque bianciato dopo... Figurazioni oggi. Il bianciato non c'è un bianciato. Lion, il bello e il cod... Non so se ti ricordate. Eh? Ma che c'hai da vista? Sì. Non lo siete ricordati. Non lo so, lo so. Quello. Non lo so. Sì, non lo so. Sì, non lo so.